Io sono Dio, aria e 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 aria. E le cose e le cose visibili e visibili e credono sull'ospedizione Gesù Cristo, un uccidigento figlio di Dio, nato dal Padre prima del prodi sé. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, nel mezzo di cui le cose si sono state create, per cui la nostra salvezza è finita dal cielo, dell'ordine dello Spirito Santo, e in più, dati delinquedo, in più, i tempi, i tempi, il tempo, luce di cui le cose si sono state create, per cui la nostra salvezza è finita dal cielo, dell'ordine grande, Grazie a tutti. 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 a tutti.